Primo Cipriani è il segretario regionale della Will Trasporti, ma è anche e soprattutto uno storico lavoratore SM. Nelle sue lacrime c'è tutto il dolore per il viliattacco subito dall'azienda, ma anche la preoccupazione per i tanti danni e per il futuro. Tutti i sindacati hanno manifestato solidarietà alla municipalizzata. In questo momento, scusate un po' l'epozione, però è una cosa grave per la nostra azienda. Il pensiero che abbiamo, come organizzato sindacale, è il primo pensiero che abbiamo avuto. Quando ho visto ciò che ci è successo, è stato a quelle famiglie che lavorano dentro gli impianti. È un'azienda che non riesco a capire, non riusciamo a capire come possa essere accaduto una cosa del genere. Ci facciamo 10.000 domande, pure di più, per capire a quale interesse ci sia sotto. Sappiamo che nei rifiuti gli interessi sono moltissimi, non pochi. Noi non abbiamo toccato nulla, abbiamo toccato il nostro. Stiamo sviluppando un'azienda sul territorio aquilano. Stiamo solamente facendo il nostro lavoro. Gestivamo i nostri rifiuti. Queste cose non riusciamo a capirle come possa essere accaduto. Il momento è durissimo. Va avanti l'indagine della mobile con il PM Cellini e continuano i sopralluoghi per scovare eventuali altri inneschi. Ne sono stati già trovati tre. Le piste seguite, sulle quali si mantiene comunque il massimo riservo, sarebbero diverse. La cosa strana è che il rogo è partito a poche ore dal sì della regione al piano di maxi-espansione dell'azienda per potenziare le due linee di trattamento dei rifiuti differenziati, fatto che avrebbe portato l'SM a una grande crescita. Ma l'altra cosa strana è che non lo sapeva quasi nessuno. La regione infatti non aveva ancora pubblicato nulla e anche il fatto che il capannone distrutto sia stato proprio quello legato al progetto fa pensare. Il danno è di circa 10 milioni di euro. Domani arriveranno i risultati dell'Arta dopo campionamenti effettuati. Si capirà se ci sono meno rischi per le persone che abitano vicino e per l'ambiente. L'SM intanto per sicurezza sta traslocando i propri uffici amministrativi dalla palazzina davanti al capannone, comunque salva per sicurezza, in un edificio vicino che ospitò la Facoltà di Scienze Umane ai tempi del sisma.